Ciao, sono Anita di KivaInternational.com. Nel video di oggi ti insegnerò a rispondere alla domanda del colloquio perché hai lasciato il tuo precedente lavoro. In particolare vedremo come rispondere alla domanda perché sei stato licenziato oppure perché ti hanno lasciato andare dal tuo precedente lavoro. Prima di spiegarvi come rispondere a questa domanda vorrei spiegarmi come non rispondere. Quindi seguite questi quattro punti fondamentali e ricordatevi di non rispondere così. Il primo punto sembra ovvio ed è quello di non mentire sulla motivazione per la quale avete lasciato il vostro precedente lavoro. Ricordatevi che se siete tra i candidati possibili probabilmente verrà chiamato il vostro precedente lavoro e verrà chiesta la motivazione per cui verrà scoperto sicuramente se non subito ma successivamente la motivazione. Mentire non fa mai bene alla carriera per cui non prendete in considerazione di farlo. Il punto numero due è molto importante quindi non parlate male assolutamente del vostro precedente datore di lavoro. Non fatelo mai in quanto verrete etichettati come una persona negativa e una persona che porta rancore. Quindi ricordatevi di rispondere in maniera neutra e concisa ma soprattutto in maniera molto positiva su quelle che sono le ragioni per la quale non lavorate più presso quella data azienda. Il terzo punto non dovrete spiegare nel dettaglio e quindi non dovrete dilungarvi sulle motivazioni per la quale non lavorate più presso quella data azienda. Cercate di essere invece molto neutrali, molto concisi e date una risposta che possa essere il più positiva possibile. Verrete visti invece in maniera molto negativa e confusa se spiegherete invece qual è la vostra versione della storia. Inoltre ricordatevi che il recruiter che vi sta davanti non conosce i vostri colleghi, non conosce il vostro precedente datore di lavoro per cui in realtà tutto quello che esporrete verrà visto in maniera molto negativa su di voi. L'ultimo punto è quello di non sentirvi a disagio nel rispondere a questo tipo di domande. In realtà quello che il selezionatore sta cercando di capire è se voi siete in grado di dare delle spiegazioni concrete e come reagite a questa domanda. Proprio come alla domanda parlami dei tuoi punti di debolezza, anche qui il selezionatore sta testando la vostra onestà, la vostra integrità e soprattutto il vostro modo di reagire alle situazioni negative. Per cui ora che abbiamo visto come non rispondere alla domanda, per quale motivo avete lasciato il vostro precedente impiego, vediamo invece come dovrete rispondere. Il primo punto è sicuramente dire la verità, quindi mi raccomando l'onestà paga, dite la verità, spiegate al selezionatore in maniera breve e concisa per quale motivo non lavorate più presso quella data azienda ditta o quella posizione lavorativa. Il punto numero due è che mi raccomando non dovrete scrivere un libro oppure raccontare al selezionatore per filo e per segno tutto quello che è successo nella vostra precedente azienda. Siate invece brevi, concisi e raccontate una storia positiva. L'ultimo punto è quello di utilizzare questa domanda per ricordare al selezionatore per quale motivo voi siete il perfect match per quel tipo di lavoro. Quindi utilizzate la domanda che vi viene fatta spiegando le motivazioni per la quale non lavorate più presso quella data azienda per ricollegarvi alle motivazioni per la quale invece per questa azienda sareste un candidato ideale. Mi raccomando quindi non dovrete parlare del vostro vecchio lavoro bensì del nuovo lavoro. È questo quello che conta. Ora vi darò verso un paio di esempi che potranno farvi capire come rispondere al meglio a questa domanda. Il primo esempio è perfetto per chi è stato lasciato a casa o comunque è stato licenziato non per una questione di performance bensì per un riadattamento della struttura aziendale all'interno dell'azienda stessa. Per cui vediamo come rispondere. La prima cosa da fare sarà spiegare al selezionatore che siete stati lasciati a casa in quanto appunto c'è stato un cambiamento della gestione strutturale all'interno dell'azienda. Voi siete stati assunti per ultimi per cui sfortunatamente siete stati ovviamente tra i primi ad essere lasciati a casa. Una nota positiva è quella che comunque avete sempre fatto il vostro lavoro in maniera eccellente. Tant'è vero che il vostro manager sarà sicuramente felice di lasciare una referenza qualora venga richiesta e soprattutto che la stessa posizione che ricoprivate in quell'azienda è la posizione che richiedono per questa azienda per cui per questo voi siete un candidato perfetto. Quindi in inglese risponderemo così infatti la compagnia di cui ero lavorato in maniera in maniera in maniera una ristruzione quindi in quanto era una ristruzione di una compagnia di un'azienda. Sono stati di 5 persone che ero in maniera in maniera in maniera in maniera in maniera in maniera tanti e quindi sono stati eliminati. Ma io credo molto bene nel mio tempo in questa posizione e mi è sicuro che potrei poter contact my previous manager and ask for a reference, he will be very happy to provide me one. The position I was covering in this company is very similar and relates a lot with this position that you require, so I'm pretty sure that I'm a very good fit for your company as well. I'm pretty sure that I will be able to transfer the knowledge that I gained from my previous role to this job very quickly. So, as you can see, we have explained to the recruiter that your license is not due to the performance, but it is due to the cause of greater force, which you certainly couldn't expect. If, as a result of the first example, you have been licensed for the cause of your performance then you can answer it in this way. After some management changes, it became really clear from the new director that the expectation on my role changed, and it didn't match with my strength. The new director brought in the company a person that was much more skilled than me on this specific role. So, my real talent is on customer service, and I know from your job description that you're looking for an experienced customer service person. Therefore, I will be very happy to explain you my expertise and the strengths I can have for this role. So, as you can see, we have given you the real explanation of the reason why you were left at home. So, we have explained that there were changes in management and that what we were requested was not in line with your capabilities. for this reason, a person who was more specialized and had more expertise in that type of sector. So, you can also use this question to propose what your expertise are, what your strengths are, what your strengths are, what your strengths are. So, we have made reference to the fact that you are more strong, more brave, more experienced on customer service. The type of work that you are required by this company, which you are making the colloquial is the customer service. So, you have to show us the desire to explain the motivation and the force that you have on this type of sector. Now, you have all the points on what to do and what to do and what to do and how to answer this question in English. So, I recommend you follow these points and try to be positive and not to respond in a negative way and especially not to put you down during this question. So, you can leave a comment below and leave a like in the video if you liked the video. and leave a comment below and leave a comment below and leave a comment below. There will be many other videos during this month and also in the next months regarding the work, the curriculum, the cover letter and many other topics. Ciao! Ciao!